21esimo pallino d'oro, quarto trofeo FM Memorial Marinozzi. La bocciofila San Michele non si dimentica certo dei suoi prestigiosi appuntamenti ed è sempre all'avanguardia nel comitato di Ascoli e nelle Marche per numero e per qualità di organizzazioni. C'è chi fra i suoi dirigenti ogni anno si dichiara stanco per la mole di lavoro che è costretta ad affrontare la società con simili manifestazioni, ma ogni anno inevitabilmente è pronto a rimboccarsi le maniche. Questo succede non solo alla San Michele ma in tante altre bocciofile dove il volontariato ha veramente un significato. Significa amore e impegno per le bocce e per la propria società, sempre. Ci sono segnali spesso contradditori da parte di chi questo volontariato è tenuto a salvaguardare e a premiare ma le persone non ci fanno caso perché, come i pallini, molto spesso sono d'oro. Andiamo con la consuetta cronaca in diretta di alcune fasi delle due finalissime. Pier Gentili al tiro di volo. Colpisce e prende il punto. Siamo alla finalissima di categoria B del ventunesimo pallino d'oro alla San Michele di Fermo. Naclerio Piergentili della Sant'Andrea di Monte Urano contro Enrico Fogante della Monte Cassianese. Comitato di Ascoli Piceno contro Comitato di Macerata. Il punteggio è in perfetta parità 1-1. Vediamo Fogante che va al tiro sul pallino. Colpito un bel pallino, ora siamo a fondo campo con due punti di Fogante. Il migliore ha un metro e venti, quindi non dovrebbe essere difficile per Pier Gentili di prendere il punto. Ecco, sta arrivando la boccia di Naclerio Piergentili. Vediamo, il punto è sicuramente preso, si posiziona anche molto bene a circa 50 cm dal pallino. Fogante, penultima boccia per lui, vediamo se riesce a fare meglio del suo avversario, ma è lunga la sua boccia. Se ne va dopo il pallino, punto ancora per Pier Gentili. Ultima boccia di Fogante. Vediamo se riesce a chiudere il gioco per impedire il punto di Pier Gentili. Ottimo accosto per Fogante. Subito il tiro di Pier Gentili. Fogante, fucilata e un punto per Naclerio Pier Gentili che ora può andare ad incrementare il punto a terra. E sono due. Due punti per Naclerio Pier Gentili che si porta sul 3 a 1. Al tiro di Luca. Ottimo centro per il giovane portacolori della VTS di Chieti, che però sta subendo il gioco del quasi sconosciuto Nicola Venniti della bocciofila di Porto Sant'Empidio. che sta vincendo per 3 a 1. Comunque siamo ancora alle prime fasi di questa finalissima di categoria CD. Vediamo il gioco ancora tutto da sviluppare. L'accosto di Venniti è ancora vincente. De Luca. Al tiro questa volta sopra mano per parare il gioco a fondo campo. Venniti al tiro sul pallino. Il pallino esce dal campo, si ripete. La ripetizione della mano non sarà troppo favorevole a Venniti e De Luca conquisterà addirittura 3 punti con i quali si porterà sul 4 a 3. E si sta rifacendo subito Venniti con questi accosti precisissimi. Sono già 3 punti a terra. Veramente eccezionale questo giocatore di Porto Sant'Empidio. Da appena un anno e mezzo che ha cominciato a gareggiare. Questa sera si sta esprimendo a livelli molto alti. Vediamo se riesce a inserire anche il quarto punto. Non sembra la direzione giusta ma passa alla sua boccia. Comunque ne non fa danni. E sono 3 i punti di nuovo in vantaggio. Venniti 6 a 4. Al tiro Piergentili. Ancora un bel colpo di Piergentili. Prende il punto. Siamo sul 6 a 3 a favore del Porta Colori della Sant'Andrea. Ultima boccia per Fogante. Vediamo l'accosto di Fogante. Se si ferma è ancora preso il punto. Vediamo. Andiamo su Piergentili. Che si sta apprestando al tiro. Ecco la ancora bella stafilata di Piergentili. Il punto è preso. Punto a terra per Naclerio Piergentili. Ultima boccia. Ultima boccia. Sono due punti. Gli applausi che sentivamo erano per De Luca che ha tirato sulla boccia del punto e crediamo che abbia conquistato diversi punti. Seguiamo ora da una posizione non proprio perfetta per vedere il gioco ma stiamo sospettando che la partita di finale di Cattoria CD possa avere termine perché ha tirato, ha costato anzi l'ultima boccia dopo aver tirato e sbagliato il pallino Vannini, Vannitti. E ora c'è De Luca che ha la possibilità di chiudere questa partita al tiro sul pallino. 8 a 6. L'ha colpito e finisce così questa partita di finale nella categoria CD. In due giocate, in due mani De Luca. Prima a 4 punti. Si è portato sull'8 a 6. Ancora a 4 punti. E siamo sul 12 a 6. E' la vittoria. E' rimasto un po' perplesso De Luca perché forse non sapeva che qui nelle Marche le partite, le gare regionali vanno ai 12 punti. Vannitti mi hanno detto che tu e' poco tempo che hai cominciato a giocare a boccia, a gareggiare. Insomma c'è arrivato alla finale del pallino d'oro, quella gara prestigiosa. Diciamo che l'hai anche combattuta abbastanza bene. Poi il giovane qui in due mani ti ha fatto fuori. E' più forte del me tutto lì. Insomma l'hai contrastato abbastanza? Sì, ho iniziato abbastanza bene e poi non ce l'ho fatta più tutto lì. Più forte, non ci stava fai niente. E' stato, ho avuto difficoltà nelle prime battute stamattina. Poi ho giocato bene, ho cominciato a giocare bene e poi in finale c'è stata la svolta in quelle due bocciate. Se no 8 punti con due passate sono pesanti. Non vengono sempre? No, no, magari. E vediamo quest'ultima boccia di Pier Gentili che potrebbe valere la finalissima e la gara. Vediamo, vediamo che passa e sono tre punti. Eccezionale, veramente applauditissimo il portacolori della Santa Andrea. Questi tre punti, 12 a 5. Vittoria e bis nel pallino d'oro della San Michele. Partiamo da chi ha perso questa volta. Fogante è la legge del più forte, eh? È vero, è vero, ho giocato bene veramente. Però complimenti anche a te. Eh, mi sono dato da fare. Hai provato. E ci ho provato, però non ce l'ho fatta. Le bocce sono fatte così questa sera, hai dato spettacolo. Ma non solo nella finalissima, mi hanno detto e ho visto qualcosa anch'io, che anche prima hai giocato a livelli eccezionali. Hai concluso la partita con tre punti. Eh? Vengono qualche volta. Il tiro c'è, il tiro c'è. Poi a quel punto con Bicea non si poteva dire Bicea. Allora sono andato a punto e l'ho messa. Per fortuna che mi è andata bene. E dalla San Michele chiudiamo con la cerimonia delle premiazioni e le parole del vicepresidente Elio Mecconi. Non c'è stato dei problemi, la partecipazione è stata abbastanza sia come pubblico che anche come risultati. Mi sembra che sia stato un bel risultato anche per la società San Michele che cerca di impegnarsi il più possibile per far riuscire sempre meglio queste gare. Queste bocce magari se ne fa due o tre all'anno, però cerchiamo di farle a livello giusto, diciamo. Ringraziamenti sono sempre doverosi alla fine? Ringraziamenti non si finisce mai di ringraziare perché se non ci fossero gli sponsor e tutti i collaboratori delle società, i comitati che magari qualche volta ci fanno soffrire, qualche volta ci danno a mano, insomma cerchiamo di dire avanti. L'importante è che si riasciano avanti tranquilli con la società, che cerchiamo di dire avanti sempre nel migliore dei modi. Grazie.